Si è conclusa per 6 rete a 2 l'amichevole disputata ieri pomeriggio al Dino Liotta, tra l'Accademia allenata da mister Alberto Licata e l'Atletico Licata di Gaetano Profumo. La sestina giallo-blu è stata realizzata grazie alla doppietta di Zarbo, è una rete a testa siglata da Loggia, Mantia, Russotto e Triglia, mentre per la formazione che milita nel campionato Axi, le marcature sono state realizzate da Giuseppe Profumo e Giuseppe Cambiano. Un buon test per la squadra del presidente Bruno Vecchio, che domenica alle 15.30 affronterà in casa il raffadale di mister Falzone. Intanto restano fermi ai box Fabrizio Grillo, Ignazio Puccio, Antonino Sitibondo, più i due under in Corvai e Scalisi, quest'ultimo aggiuntosi proprio ieri in infermieria a causa di un problema muscolare all'interno coscia. Buone notizie ci sono invece per Iannello, che ieri non ha giocato per scelta precauzionale del tecnico, ma che già oggi si riunirà al gruppo, così come Artugno. Pomeriggio riprenderanno gli allenamenti, mentre domani si svolgerà il consueto allenamento di rifinitura per prepararsi al meglio alla gara casalinga di domenica.